Quello che sta accadendo in questi giorni sul prezzo di Bitcoin è una dinamica davvero molto interessante. Partiamo da quello che ha dichiarato qualche giorno fa Mike Novogratz, l'ho scritto, l'ho riportato in questo articolo di Cryptonomist in cui vi metto il link in descrizione. Lui sostiene che in questa fase il bottom, cioè il prezzo più basso di Bitcoin, dovrebbe comunque rimanere sopra i 38.000 dollari. Anzi, per la precisione, lui ha detto che probabilmente in questa fase il bottom di Bitcoin è compreso in un range che va da 38.000 a 40.000 dollari. Ebbene, già come vi ho detto ieri in questo mio precedente video, Bitcoin era sceso sotto i 40.000 dollari, ma aveva subito recuperato. Il grafico è questo. Guardate ieri cosa è successo. All'apertura delle borse americane il prezzo è passato da circa 41.000 a 39.000 e 6 e subito rimbalzato, tornando prima a 40.000, poi a 41.000 e poi nel corso della notte a 42.000. I punti di riferimento sembrano essere tre. Il primo 42.000, cioè il prezzo attuale e il prezzo che è più o meno già da qualche giorno. Il secondo è 40.000 perché il prezzo di Bitcoin è sceso momentaneamente sotto i 40.000 ma subito rimbalzato. E la terza soglia sono i 38.000, così come detto da Novogratz, che sono la soglia sotto la quale, secondo lui, in questo periodo, il prezzo di Bitcoin non dovrebbe scendere. Però attenzione, come già dicevo anche in questo altro mio precedente video, in passato, quando si è verificata una situazione del genere, il bottom è stato toccato più volte. Stendiamo a un anno, quindi gli ultimi 12 mesi. Guardate cosa successe tra maggio e luglio. Il bottom fu toccato una prima volta qua, anche se non si scese sotto i 30.000, poi fu ritoccato due volte, cioè per due volte scese sotto i 30.000, il 22 giugno e poi il 20 luglio. Il 22 giugno poi rimbalzò, cioè da sotto i 30.000 tornò a 36.000, poi riscese e poi ci fu il vero e proprio rimbalzo. Qua abbiamo avuto il 4 di dicembre la prima caduta fino a 42.000, poi in questi giorni abbiamo avuto la seconda caduta. Quindi non è detto che il rimbalzo di ieri significhi che il bottom è stato toccato ed ora in poi il prezzo salga, perché potrebbe tornare a ritestare quel bottom. Tuttavia, come dicevo invece in questo altro mio video, è ancora in atto un'anomalia sul prezzo di bitcoin. L'anomalia la si nota se al prezzo di bitcoin si aggiunge il confronto con US10Y, cioè i rendimenti, tasse di interesse sul debito pubblico americano a 10 anni. Se estendiamo il confronto fino a giugno 2020, quindi addirittura praticamente a due anni fa, notiamo che quando bitcoin è cresciuto sono cresciuti anche i tassi. Poi quando i tassi hanno iniziato a scendere è sceso anche bitcoin, poi bitcoin è ripartito a salire, sono ripartiti anche i tassi. E poi in particolare a dicembre, quando bitcoin è iniziato a scendere, sono scesi anche i tassi con il 4 dicembre che di colpo è sceso sia bitcoin in modo notevole che i tassi. Ebbene da allora, dal 4 dicembre, guardate si vede molto bene qua, i tassi hanno iniziato a salire, ora sono praticamente i massimi annuali, mentre bitcoin ha continuato a scendere. Questa è un'anomalia, cioè dopo il 4 dicembre sul prezzo di bitcoin c'è in atto un'anomalia, perché a differenza di ciò che è accaduto quasi nell'anno e mezzo precedente, il prezzo di bitcoin in discesa, mentre invece i tassi dei rendimenti del debito pubblico americano sono in salita. Il punto di svolta potrebbe essere la comunicazione del dato sull'inflazione a dicembre negli Stati Uniti d'America, che non c'è ancora stato, e soprattutto, qualora dovesse essere anomalo, le eventuali azioni della Fed. I mercati già prevedono particolari azioni della Fed, se dovessero essere differenti rispetto a quelle previste dai mercati, i mercati potrebbero muoversi. Quindi la situazione è molto interessante e potrebbe cambiare a breve, perché questi dati, da qui a qualche giorno, dovrebbero arrivare. Quindi la situazione potrebbe sbloccarsi a breve. Io ovviamente non so dirvi se si sbloccherà in positivo o in negativo, però so dirvi che vi terrò aggiornati su cosa accadrà. Poi, se volete, iscrivetevi anche al mio secondo canale YouTube, di cui vi metto il link in descrizione, in cui parlo di notizie di economia e finanza, ma che non hanno a che fare con le criptovalute. Un saluto, ciao!